Le attività commerciali si vestono di rosso e promuovono insieme a noi questa iniziativa e noi ci teniamo particolarmente a ringraziarli perché dare visibilità e fare sentire la presenza di una moltitudine, di un gruppo, ovviamente è molto importante nel contrasto attivo alla violenza di genere. Spesso le notizie di cronaca riguardano principalmente il femminicidio, che fondamentalmente è la punta dell'iceberg, quindi l'atto estremo, l'uccisione della donna, ma dicevamo è la punta di un iceberg che ha tanto di sommerso. Purtroppo ancora oggi la donna vive condizioni di violenza anche intrafamiliare ed è una realtà costante e continua perché la violenza è una problematica strutturale, cioè una problematica trasversale, non è connessa a uno stato sociale, a condizioni socio-economiche, ma investe tutti e tutte senza distinzione. Noi gestiamo una media di almeno 100 contatti, dove ovviamente rientrano anche dei contatti rispetto a richieste di informazione su come ad esempio potersi muovere nel supportare situazioni di cui la persona ha conoscenza. Allo stato abbiamo circa una trentina di persone come presa in carico, che significa attivare dei percorsi appunto longitudinali e trasversali di supporto e accompagnamento con colloqui periodici, con un progetto personalizzato che viene strutturato insieme alla donna nel rispetto della sua volontà e senza mai sostituirci alla donna stessa. Questo è importante perché ovviamente chiedere aiuto è complesso, è difficile, noi lo sappiamo bene, ma è anche il primo passo da fare proprio per riattivarsi. In questo momento tra l'altro sono attivi due bandi rivolti alle donne vittime di violenza che possono richiedere l'inclusione sociolavorativa attraverso l'adesione al progetto DEA e tutte le informazioni sul sito della cooperativa sociale di Capodorlando e anche sul nostro sito pinkproject.it e ci è stata segnalata anche un'altra iniziativa da parte dell'ente di formazione PROSCA di Brolo che ha in attivo tre corsi di qualifica professionale rivolti proprio a donne vittime di violenza e che tra l'altro saranno erogati online, quindi con una facilità di fruizione.